Come scaricare così i nuovi driver rilasciati da Nvidia sul programma Nvidia App? Come puoi vedere hanno rilasciato così un aggiornamento per i driver per BlackMeet Wokong quindi in questo caso se stai riscontrando problemi di black screen o crash o problemi all'AV oppure problemi di memoria video esaurita ti consiglio di scaricare così questo aggiornamento rilasciato da Nvidia scaricarlo e installarlo come puoi vedere basta che vai direttamente sul sito Nvidia App scarichi e installi così la versione beta una volta fatto vai direttamente su driver e proprio in alto a destra dove c'è scritto driver game ready oppure drive game studio aggiorni così la scheda e vedi se devi fare qualche aggiornamento come puoi vedere c'è un aggiornamento del 20 di agosto proprio quando è uscito BlackMeet Wokong quindi può aiutarti a risolvere il problema riguardo allo schermo nero scheda grafica e soprattutto anche i crash quindi l'aggiornamento lo fai senza nessun problema scarichi installi e poi riavvia il computer tutto qua e potrai giocare a BlackMeet Wokong senza problemi se hai altri problemi commenta sotto al video se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao